Può non essere facile capire la gioia di Zaccaria per la nascita del figlio Giovanni. Spesso un figlio avuto in età avanzata porta diverse complicazioni, soprattutto per la madre, e invece il vecchio sacerdote trabocca di grazia e pronuncia queste parole di lodi a Dio su un totalmente bello della storia della salvezza che la Chiesa ci invita a proclamarle ogni mattina per ricordarci di affidare a Lui la nostra giornata. Ma la sua esultanza è dovuta interamente al fatto che fu colmato di Spirito Santo. È lo Spirito Santo che parla in Lui, quello Spirito di cui ora è colmo, perché ha colto Dio nel suo cuore. Per questo le sue non sono delle semplici parole, ma una vera e propria profezia. Il suo bambino sarà chiamato profeta dell'Altissimo perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade. È importante sottolineare come Zaccaria si esalti non per il futuro glorioso del figlio, da papà orgoglioso, ma perché il suo Dio, il Dio di Davide, il Dio di Abramo, ha un progetto magnifico per ogni individuo. Carissimi, Dio non si accontenta, il suo progetto per noi è grande, prezioso, e solo aprendo a Lui il nostro cuore noi saremo capaci di comprenderlo e farlo nostro. E quando ciò avverrà potremmo anche noi essere portatori della Sua parola e del Suo annuncio. Là dove Lui ha deciso per noi, il Signore ci ha visitati come un medico i malati, perché per sanare l'inveterata infermità della nostra superbia ci ha offerto il nuovo esempio della Sua umiltà, ha redento il Suo popolo perché ha liberato a prezzo del Suo sangue noi che eravamo diventati servi del peccato e schiavi dell'antico nemico. Cristo ci ha trovato che giacevamo nelle tenebre e nell'ombra della morte, cioè oppressi dalla lunga cecità del peccato e dell'ignoranza. Ci ha portato la vera luce della Sua conoscenza e rimosse le tenebre dell'errore, ci ha mostrato il sicuro cammino per la Patria Celeste, ha diretto i passi delle nostre opere per farci camminare nella via della verità che ci ha mostrato e per farci entrare nella casa della pace eterna che ci ha promesso. Buona giornata a tutti!